La polizia di Viterbo ha arrestato il latitante Massimiliano Vastante, 50 anni. L'uomo è stato trovato presso la propria abitazione di Via degli Archi, nel centro storico del comune di Tarquinia. Era ricercato dallo scorso agosto in quanto evaso dalla misura della detenzione domiciliare concessa agli presso la struttura sanitaria Agostino Gemelli di Roma, approfittando della rimozione del dispositivo elettronico di controllo per l'effettuazione di alcuni accertamenti diagnostici. Dal 6 agosto si era quindi reso irreperibile. Vastante è stato condannato in via definitiva a 7 anni e 6 mesi di reclusione per un cumulo di pene relative alla commissione di diversi reati, in particolare numerose rapine.